Una mostra per denunciare la censurabile pratica, peraltro reato punito dalla legge, del bracconaggio. È stata allestita nella sala mostre della provincia, un'iniziativa di pronatura cuneo con illustrazione di Marco e Mattia Boetti. Al nostro microfono uno dei due disegnatori. Questa mostra nasce da un'idea del commissario della Polizia Provinciare Raldominetti di Genova. L'ho realizzata in collaborazione con mio fratello Mattia. L'idea da cui prende anche il nome Libertà Perduta è quella di denunciare le attività del bracconaggio, purtroppo ancora presenti in Italia, da nord a sud. Abbiamo realizzato le trappole che catturano questi animali e il momento in cui questi animali purtroppo capiscono di perdere la libertà e quindi conseguentemente la vita. Da lì il nome Libertà Perdute. Sono state realizzate 28 illustrazioni, sono stati rappresentati sia mammiferi che uccelli, bracconati in varie maniere, dai lacci alle tagliole agli archetti. È una mostra di denuncia abbastanza cruda ma che vuol fare riflettere e soprattutto sensibilizzare su questo reato che è il bracconaggio. Come hai realizzato questi disegni? Da prima studiando dei fotomontaggi a computer, poi successivamente realizzando la matita e poi nel passo successivo il colore di queste tavole illustrate con acquarelli, matite colorate e matite. Fino a quando sarà visitabile questa mostra? Questa mostra è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino a questo sabato che viene. Chi è che è invitata in particolare? Sono assolutamente invitati tutti dai grandi ai piccini soprattutto per capire queste problematiche, insomma assolutamente una mostra aperta a tutti.